Vissuto tra il 1886 e il 1965, Paul Tillich venne sviluppando una teologia che, se letta in trasparenza, pare collocarsi in posizione antitetica rispetto a quella delineata da Karl Barth con la dottrina del totalmente altro. Certo, anche Paul Tillich è profondamente persuaso dell'evaporazione del compromesso tra cristianesimo e filosofia quale si era delineato nell'Ottocento e ciò anche in ragione dell'esperienza della Prima Guerra Mondiale che Tillich vive in prima persona in qualità di cappellano dell'esercito tedesco. Sappiamo che Tillich militò inizialmente nelle fila di quello che è stato definito il socialismo religioso e ebbe modo di insegnare in diverse università della Germania. Con l'avvento del nazismo tuttavia venne rimosso dalla cattedra e fu costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti. d'America. Qui, fino al termine della sua vita, che fu nel 1965, lo ricordiamo, Tillich seguitò a occuparsi di filosofia e teologia insegnando nelle università di Columbia, Harvard e Chicago. Nel suo scritto autobiografico che reca il titolo Sulla linea di confine, Tillich di fatto insiste sulla doppia esperienza di vita in mondi così diversi che fece di lui un teologo alla frontiera, un teologo in campo, un teologo militare, se vogliamo usare questa formula. È un'immagine che esprime di fatto anche l'immagine stessa della sua teologia, che è una teologia della frontiera, incardinata sul ravvisare, nel tentativo di ravvisare tra l'uomo e Dio un confine che proprio in quanto tale separa e insieme unisce e fonda la relazione tra divino e umano. Proprio la linea di confine tra divino e umano è in effetti il cuore della riflessione teologico-filosofica di Paul Tillich. La sua opera principale, che di fatto venne redatta continuativamente per più di 40 anni, si intitola Teologia sistematica, ma poi anche negli scritti successivi ritorna questo tema della frontiera del confine tra umano e divino. In quest'opera, di fatto Tillich viene elaborando una prospettiva di tipo teologico incardinata su quello che Tillich stesso appella il principio della correlazione. Non vi è dunque un salto, come lo intendeva Barth, tra il divino e il totalmente altro e l'umano. Di fatto quel salto, dice Tillich, finiva per relegare Dio in una dimensione inaccessibile, remota rispetto all'umano. Al contrario, il rapporto tra Dio e umano è un confine, appunto, una soglia, una sorta di mutua relazione grazie alla quale Dio stesso è inteso come la profondità dell'essere. Sicché non si tratta di insistere sulla incompatibilità tra teologia e filosofia. Si tratta, semmai, dice Tillich, di insistere di fatto sul nesso che di fatto rende possibile un dialogo fra Dio e l'uomo, indagando appunto la soglia, il confine, che li separa e al tempo stesso li unisce. Sicché il messaggio cristiano, dice Tillich, per essere valido per le generazioni di tutti i tempi, deve poter essere mediato. Deve certo mantenere una sua verità intemporale, ma al tempo stesso deve calarsi nel tempo storico per poter rendere possibile un dialogo, per poter rispondere ai problemi dell'uomo di volta in volta calato nella situazione storica. E ciò di modo che sia possibile un dialogo anche e forse soprattutto per Tillich con i non credenti. Questo compito apologetico di fatto dovrà svilupparsi di fatto rinunciando anche alla parola Dio, qualora questa parola appaia al pubblico ateo, non credente o comunque agnostico come una parola sospetta e già intrisa di valori non condivisi. Bisogna saper rinunciare anche alla parola Dio pur di continuare nella possibilità di questo dialogo tra umanità e divinità. Sotto questo riguardo dice Tillich, se il concetto di Dio non riesce a far più presa sull'uomo contemporaneo perché è incapace di esprimere gli abissi della vita, la sorgente stessa dell'essere, allora bisogna in qualche modo riuscire ugualmente a far valere le basi del dialogo, la possibilità di intendersi. Sotto questo riguardo dice Tillich il nome Dio deve indicare il luogo di una possibile risposta alle domande dell'uomo e per farlo si può anche all'occorrenza rinunciare al nome di Dio per rendere possibile questo dialogo. Sotto questo riguardo di fatto dice Tillich si potrà coinvolgere nel dialogo in questo modo anche chi non crede, anche l'ateo. Di questo aspetto Tillich rende conto nelle sue opere e in ultima analisi il nome Dio deve di fatto suggerire all'uomo il coraggio di esistere, per usare una bella espressione impiegata dallo stesso Tillich. Sotto questo riguardo egli rivendica pieno la dimensione ontologica della fede. Essa non è risolvibile in affermazione teorica e nemmeno in un'esperienza psicologica. Al contrario la fede è in condizionata accettazione esistenziale della dimensione della trascendenza. Sicché la fede non è un'opinione, ma è lo stato di chi si lascia prendere dall'essere e solo perché è in grado di affermare se stesso. Questo vuol dire che la fede è in fondo la sola possibilità autentica propria dell'uomo segnatamente in un'epoca caratterizzata dall'angoscia, dalla frammentazione, dalla dispersione, dalla perdita di significato, dal nichilismo per dirla con la formula utilizzata da Nietzsche. Questa possibilità non è una pretesa di vincere la disperazione, sta invece la sua possibilità più propria nell'accettare la disperazione stessa che si rivela da un certo punto di vista e per paradossale che possa apparire come positiva proprio nella sua negatività. Di fatto la disperazione implica il riconoscimento del potere dell'essere nel pieno della stretta del non essere. Tillich insiste a lungo su questo tema assolutamente centrale e lo fa rivendicando appunto la sfida della disperazione. Dice Tillich la fede che rende possibile il coraggio della disperazione è l'accettazione del potere dell'essere anche nella morsa del non essere. Anche nella disperazione del significato l'essere, scrive Tillich, si afferma per mezzo nostro. L'atto di accettare la mancanza di significato è in se stesso un atto significativo e un atto di fede, dice Tillich. Sicché in ciò sta proprio il principio di correlazione di cui dicevamo, quel principio che permette di pensare il nesso fra la domanda dell'uomo e la risposta di Dio. Si può ugualmente dire che l'uomo sia per sua essenza una domanda, una domanda la cui esistenza non è altro se non l'attenzione a una possibile risposta che Dio in maniera del tutto libera e gratuita dona all'uomo. Ma nelle forme che via via, nelle diverse condizioni storiche e culturali, l'aspettativa umana si rivela in grado di recepire. Questo non vuol dire, spiega Tillich, che la correlazione sia per Dio necessaria, è piena libertà, Dio è assoluta e indeducibile libertà. Ne vuol dire che la risposta di Dio sia in qualche modo necessitata, pur essendo in qualche modo richiesta dall'uomo. Al contrario, domanda e risposta, la domanda dell'uomo e la risposta di Dio restano del tutto indipendenti, libere, gratuite, né l'una pone in una condizione di necessità l'altra. Sicché l'intero movimento della teologia, di fatto, è il tentativo di interrogare questa domanda, di interrogare la possibilità stessa di questa domanda. Il nesso di domanda e risposta si svolge comprendendo che la rivelazione è la risposta alle questioni che la ragione pone. Di fatto Dio non è altro se non la risposta al problema dell'essere, è la risposta che Dio stesso dà al domandare dell'uomo. Sotto questo riguardo, Dio è risposta alla domanda dell'essere, proprio come Cristo per Tillich è risposta alla domanda dell'uomo. Nello Spirito Santo, invece, è da ravvisarsi la risposta al problema della vita. Nel Regno Divino è da ravvisarsi la risposta al problema della storia. E quindi, queste risposte sono risposte che provengono da Dio e che danno soluzione al domandare dell'uomo storicamente configurato. Sicché la polarità fondamentale viene ovunque riproposta e mantenuta nella sua insopprimibile tensione. E ciò sulle orme di una visione scissa e problematica dell'uomo che di fatto pone in connessione Tillich con le filosofie dell'esistenza novecentesche. Una domanda tipica di tutto il novecento, in verità. Segnatamente, spiega Tillich, dobbiamo rilevare come nel trattare la polarità tra essere e Dio occorra richiamarsi alla mistica tedesca e, segnatamente, anche al pensiero dell'ultimo Schelling, quello che aveva superato la propria filosofia idealistica giovanile ed era addivenuto a una filosofia interessata al problema del male e dell'abisso. La concezione dell'essere come precarietà e angoscia, e quindi come finitezza intrinseca, non permette più di assegnare a Dio il tradizionale attributo dell'essere. Se comunque è necessario ravvisare in Dio la risposta al problema ontologica, alla domanda fondamentale dell'uomo, Dio non potrà dirsi totalmente altro dall'essere, come invece voleva Karl Barth. Al contrario, Dio è il fondamento dell'essere, dice Tillich, e cioè colui il quale pone l'essere stesso e ne è signore garante. Solo in quanto tale Dio può fornire una risposta al problema ontologico, al problema dell'essere. E tale risposta deve a sua volta iscriversi, per poter essere colta dall'uomo, nelle condizioni della sua esistenza, quindi in risposte concrete legate al momento storico anche. E questo è il fondamento della cristologia di Tillich, il quale Tillich ravvisa nella figura di Cristo la realizzata unità del divino e dell'umano in una vita storica concretissima, più precisamente in una persona in carne e ossa. Cristo è la domanda risolta dell'esistenza e il cristianesimo si distingue allora da ogni limitata forma di religione. Anzi, propriamente per Tillich sarebbe riduttivo definire il cristianesimo una religione. Al contrario, il cristianesimo è una visione del mondo integrale, filosofica e teologica insieme. L'incarnazione è il punto saliente della storia e il culmine di questa storia è il Regnum Dei, il Regno di Dio, che non è qualcosa di separato dal tempo, ma è la realizzazione più radicale del tempo come sviluppo, come attuazione di un telos, di un fine immanente che rilancia verso la trascendenza. La teologia di Tillich sicché ci porta a una visione escatologica, una visione escatologica che non annichilisce la storia, ma che al contrario ravvisa nella vita eterna l'immanente riscatto del male e della negatività storica. Il corso storico è una tensione che culmina nel salto oltre la storia verso la trascendenza, salto che rende a sua volta portatrice di un senso la storia stessa, di un senso però che a differenza di quanto pensato dalle filosofie della storia ottocentesche e novecentesche non è da ravvisarsi nella storia stessa, bensì in un salto al di là della storia, nella salvezza escatologica pensata come un al di là della storia a cui la storia stessa tende.